Patrizia Morellato e Brisida, è stato un rapporto molto bello all'inizio, non lo nego, che si è andato poi a distruggersi nel tempo. Non do né la colpa a lei né la colpa a me, perché comunque siamo sempre soggetti a quello che dice la gente, ovviamente dobbiamo fregarcene, perché se una persona va da te e ti dice oh Patrizio si sta comportando male, in realtà non è così, tu pensi che sia così. Non rinnego nulla. Dopo che poi ci siamo lasciati ho fatto un po' lo scemo, è vero. Scusate, c'ho... Adesso adesso non ci parliamo. Eh, se magari ci abbiamo un po' d'acqua perché...